Salve a tutti ragazzi! Ma allora che c'entra il digiuno con l'Eucaristia? Il digiuno è un elemento importante che prepara alla celebrazione eucaristica. Anticamente pensate che si digiunava fin dalla mezzanotte prima di ricevere l'Eucaristia, quindi era un digiuno molto lungo e non si poteva mangiare nulla e nemmeno bere soprattutto alcolici, era permesso solamente bere l'acqua. Per tantissimi anni quindi si è praticato questo digiuno che durava dalla mezzanotte fino al momento in cui di celebra l'Eucaristia che certo avveniva usualmente la mattina presto. Poi cosa è successo? È successo che con Paolo VI, quindi circa 60 anni fa nel 1964, si è voluto regolarizzare il digiuno eucaristico ad un'ora prima della celebrazione della Santa Messa. Questa, diciamo così, regola è poi confluita anche nel Codice di Diritto Canonico, all'Arcanone 919. Ma non è per tutti quanti così. Infatti le persone malate, le persone anziane, le persone che assistono o che si pongono alla cura di queste genti più in difficoltà, può digiunare 15 minuti prima della Santa Eucaristia. Ma che serve digiunare prima della Messa? È un tempo propizio, potremmo dire, è un tempo di grazia quello del digiuno. Prima cosa perché ci fa comprendere che il cibo che andiamo a ricevere durante la Messa non è un cibo come gli altri, ma è un cibo particolare, è il corpo e sangue di Gesù. Non è un cibo come quello che mangiamo solitamente, ma è un qualcosa che fa bene all'anima e che ci pone in relazione, amicale con Dio. Seconda cosa, quel digiuno ci pone in attesa gioiosa dell'Eucaristia, ci prepara a ricevere Gesù, ci permette di diventare più coscienti di quello che andiamo a celebrare da lì a dopo circa 60 minuti. Quindi il digiuno non è un elemento secondario alla Santa Eucaristia, ma ne diventa parte essenziale, da sempre presente dentro al rito della Messa, come un elemento che ci permette di prepararci a quell'evento.